Allora ragazzi siamo qui a Milano alla Design Library per un'esperienza extratemporale, caro Paolo, extratemporale perché in realtà abbiamo firmato un accordo di riservatezza, quindi quello che state vedendo adesso è successo l'altro ieri. Siamo alla Design Library di Milano alla presentazione super segreta ufficiale della nuova Wacom Intus 5. E ovviamente non poteva mancare il nostro amico Paolo Baba Baccolo, Wacom Evangelist, che ci ha fatto vedere due o tre chicche di questa Intus 5 che peraltro andiamo ad approfondire nelle prossime settimane. La prima cosa che ho notato è questa incredibile esperienza tattile. Quindi partiamo proprio da questa. Sicuramente la cosa che salta all'occhio è il nuovo materiale che la riveste, perché non è più un materiale plastico, è un materiale molto più definito, molto più sensibile anche per l'utente che lo va a prendere, quindi se ci devo lavorare tutto il giorno, come spesso accade, il materiale è sicuramente molto più interessante, più sensibile, più bello al tatto, quindi molto molto bello, molto molto comfort. Ecco, non è solo una questione di comfort naturalmente, ma è proprio una questione di approccio con lo strumento, cioè di rapporto tattile, di rapporto sensoriale con lo strumento, nel senso proprio del fatto che ci stiamo sopra tutto il giorno, almeno. Noi che lavoriamo, sì, te non so. Voi che lavorate, ci state sopra tutto il giorno, quindi il fatto di avere un contatto così particolare con la tavoletta dà un'esperienza di lavoro e di ottimizzazione molto più performante. Assolutamente, lo strumento in Tor 5, ma come tutte le tavolette in Tor 5 in generale, in particolare poi, è uno strumento altamente personale, quindi non credo ci sia uno strumento così personale e personalizzabile come una tavoletta. In più, questo, se vogliamo svelare già che cosa sarà il futuro, non è soltanto penna, ma la grande novità proprio della famiglia Intuos 5 è la possibilità di essere touch e multitouch fino a 5 dita. Quindi, tutto quello che oggi possiamo fare con le gesture classiche dei più comuni sistemi operativi oggi, lo ritroviamo totalmente integrato all'interno della tavoletta, quindi con l'utilizzo della penna, sì, ma anche direttamente con la mano. Quindi molto, molto, molto personale. Ecco, questa cosa la possiamo personalizzare, tutte le nostre gesture, la possibilità di utilizzare le dita sulla tavoletta per ogni tipo di applicazione, per ogni tipo di sistema operativo? Sì, questo riprende quello che già oggi avviene con la penna, quindi come posso avere una penna configurata in un certo modo per un certo tipo di applicativo, ad esempio Photoshop la penna risponde ad un certo modo con i tasti laterali configurati ad hoc per Photoshop e per quello che utilizzo più spesso in Photoshop, per quanto riguarda un altro applicativo che potrebbe essere il Finder, piuttosto che è un software 3D di disegno, un software video, potrei avere la tavoletta configurata in maniera completamente opposta, completamente diversa, addirittura le gesture potrebbero essere diverse, ad esempio in questo modo potrei sfogliare una pagina in un PDF, potrei mandare avanti e indietro una timeline all'interno di Premiere Pro, un software video, o potrei fare un annulla nella storia all'interno di Photoshop, tutto direttamente con la mano. Quindi tempo e spazio tutti raggruppati nello stesso posto, ma c'è anche qualche funzionalità molto interessante in più rispetto alla Intuos 4, per esempio vediamo che gli express key di quella che era appunto Intuos 4 adesso sono integrati nel design innovativo di Intuos 5, quali altre differenze? Una cosa che sottolinea proprio quanto Wacom si è alla ricerca sempre dell'affinare, del rifinire un prodotto che già può essere ottimo, una banalità se vogliamo, l'area di lavoro della tavoletta. L'area di lavoro della tavoletta è marcata da questi quattro angoli, ma se uno lo nota vede che l'area in realtà sulla quale io posso appoggiare la penna è molto più grande, questo perché ci siamo accorti che a lungo andare ci sono persone che magari disegnando molto velocemente andavano a sbattere in qualche modo con la punta della penna sul bordo più esterno. Piccole cose, piccoli dettagli che però a lungo andare possono rallentare se vogliamo il nostro flusso di lavoro, il nostro modo di lavorare. Quindi una fra le tante migliorie che ha questa nuova Intuos 5 è proprio il fatto di avere un'area di lavoro più interna, che non vuol dire più piccola, rimane identica all'area di dimensione, ma l'area su cui la penna potrà poi appoggiare, quindi io potrò andare a scartaveterare la mia tavoletta, è molto più esterna. Quindi un'area di sicurezza in cui io sono sicuro di non danneggiare la tavoletta, non danneggiare la penna, molto più pratico. Insomma, ci sono un sacco di cose. Tra le altre ci sono anche delle applicazioni gratuite collegate alla nuova Intuos 5. Sì, anche questo concetto che riprende quello che è già sempre stato presente con Intuos 4, con tutti i prodotti professionali e non da parte di Wacom, la possibilità una volta registrato il prodotto sul sito apposito di poter avere un download di un'applicazione completa e gratuita a questo punto, direttamente dal sito di Wacom, che potrebbe essere un Photoshop Elements, piuttosto di versione completa, piuttosto che un Sketchbook Designer, in Europea Interessential, che comunque sono soldi. A voglia, sono soldi! Beh, ragazzi, veramente le funzionalità di questa Intuos 5 sono tante, sono tante da provare, da scoprire, ma soprattutto, è il caso di dirlo, da toccare con mano. Vogliamo fare una dimostrazione? Vogliamo fare una dimostrazione? Abbiamo collegato la tavoletta al max. E potremmo andare avanti tutto il giorno, ma noi di fatto continueremo, sì, tu hai da lavorare, noi continueremo ad indagare e approfondire l'argomento Intuos 5 nelle prossime settimane su Total Photoshop, perché, come dicevamo poc'anzi, c'è tanto da vedere, tanto da scoprire, ma soprattutto da toccare con mano. E qui vi facciamo già un invito, perché alla fine di marzo, a Roma si trarà la nuova edizione del Photoshop a fiera dedicata al Digital Imaging, noi saremo lì proprio per farvi vedere, farvi toccare con mano la nuova Intuos 5. Grazie Paolo e ci vediamo a questo punto a Roma. Ci vediamo a Roma. Grazie a tutti.